Dunque, cerco di affrontare un tipo di correttezza che è abbastanza complessa, perché fin quando dobbiamo fermarci alla correttezza ortografica, grammaticale, sintattica, è un po' come eseguire delle operazioni, due più due fa sempre quattro, il gli non può essere al posto di le, non ci può essere una virgola al posto di un punto, e la cosa è abbastanza squadrabile. Quando invece si affronta la correttezza formale e lessicale, passiamo ai gusti, e come dice giustamente il latino, de gustibus non disputandum. Ci sono dei gusti che tirano da una parte, dei gusti che tirano dall'altra. Io, nella mia grande ignoranza, non sono mai riuscito ad apprezzare i quadri di Picasso, per dire. Ci sono certe espressioni oggi, nel vestito, nel presentarsi, che io, o almeno la mia sensibilità, non riesce ad accettare. Ne potrei fare gli esempi, tantissimi. Eppure, chi adotta quel vestito, quella decorazione, quei colori, ha una sensibilità, evidentemente, completamente differente dalla mia. Tuttavia, io penso che si possano tracciare delle linee guida che ci possono aiutare a individuare delle regole formali e lessicali su cui costruire la bellezza estetica dello svolgimento di un tema. Vi ricordo che tutto quello che prenderò in considerazione oggi è già sul mio sito, in cartaceo, può essere scaricato. È un cartaceo, però, per ora, provvisorio. Infatti, se vi sintonizzate, là dove c'è lo svolgimento tema, lo potete trovare. Allora, vediamo, o almeno partiamo, da delle regole abbastanza semplici. Sono regole che io ho ritrovato sul quaderno di una mia ex-alunna, poi ho integrato, ho aggiunto, ho cercato di dimare. Una prima regoluccia. Non ripetere. Nel giro di poche righe non si ripetano gli stessi vocaboli. Troviamone altri. C'è la possibilità. Ma anche oggi, se noi facciamo così, sinonimi, eccoli qua. Vedete? Superare. Un sinonimo di superare. Oltrepassare, attraversare, varicare, surpassare, passare, sommontare. Qualcuno mi dirà, ma come? Usi il computer? Ma è perché una volta non utilizzavamo il vocabolario dei sinonimi? Non si permetteva all'alunno di presentarsi a scuola con il vocabolario, il dizionariato dei sinonimi? Il dizionariato dei sinonimi, oltretutto, arricchisce il nostro lessico. Perché non usarlo? Se invece di averlo scritto su un testo, ce l'abbiamo qui direttamente nel programma Word, perché non utilizzarlo? Quindi, non so, ripetizioni. Vedete la parola ripetizioni? Io metto sinonimi, reiterazioni, repliche, duplicazioni, raddoppiamenti, eccetera, eccetera. È evidente che non si può mettere un vocabolo così, a casaccio. Bisogna individuare il vocabolo adatto. E molto spesso, per evitare le ripetizioni, basta cancellare. Io so che ai miei alunni non piaceva questo verbo, questo predicato verbale. Perché a volte mi trovavo con dei temi di due, tre, quattro pagine e cancellavo un po' di qui, un po' di qua, un po' di là. Il tema si riduceva del 30, 40, 50%. E il ragazzino si trovava lì. Credeva di aver fatto perché molto spesso lo svolgimento di un tema viene valutato dalla lunghezza. Quante pagine hai fatto? Ne ho fatte dieci, ne ho fatte quindici, ne ho fatte quattro. Sì, però se in quelle 6-7 pagine tu ripeti sempre la stessa cosa non soltanto il vocabolo ma anche i concetti diventa uno svolgimento pesante. Pesante. Sui concetti rifletteremo poi quando valuteremo il pensiero, la correttezza del pensiero. Qui limitiamoci semplicemente a valutare quella che definiamo correttezza formale lessicale. Lessicale vuol dire nel vocabolo, il lessico utilizzato per esprimere un pensiero. Ho fatto un esempio. Questo fatto, guardate che tutti gli esempi che vi propongo come poi tutte le esercitazioni sono state tratte, esempi ed esercitazioni sono stati tratti dagli svolgimenti dei miei alunni. E non ne ho messi tutti, ne ho prese qualcuna. Mi scriveva questo Pierino, ormai lontano del tempo che sarà un uomo, no? Con dei figli. Questo fatto è accaduto quando avevo l'età di 7-8 anni. il fatto è che la mia mamma doveva sentarsi per alcune ore. Vedete che, ripete, fatto, fatto. Non sta bene. Quindi, questo fatto è accaduto all'età di 7-8 anni. Qui basta semplicemente utilizzare una congiunzione e unire le due proposizioni. Anche su questo vedremo di riflettere. Perché è vero che all'elementare si consigliava l'alunno, si consiglia tuttora l'alunno, di costruire delle frasette brevi, ma corrette. Sì, però dopo 5 anni di elementare, quando si passa alle medie e poi quando si passa alle superiori, bisogna avere anche la capacità di sviluppare un pensiero organico dove in una frase abbiamo delle principali, delle coordinate delle principali, abbiamo delle subordinate. Qui non è poi così difficile, però voi capite che fermarci alla prima espressione è un po' come fermarci ai pensierini di prima elementare. Fai 5 pensierini sulla mamma e Pierino la mia mamma ta 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 punto la mia mamma ta ta e ripetiamo la mia mamma all'infinito. Ed è giusto che sia così, eh? Perché il pensiero organizzato e ben strutturato si costruisce prima attraverso un procedimento analitico di pensieri isolati. Poi questi pensieri devono essere collegati. Nel collegarli si evita di ripetere, si costruiscono le subordinate che si legano alle principali e danno un discorso più completo, più complesso, più preciso, più piacevole anche ad essere ascoltato. Sinonimi per superare le ripetizioni di nomi necessari all'esposizione si trovino dei sinonimi appropriati e si ricordi che i nomi propri si possono ripetere senza temere di incorrere in una forma non appropriata. Spiegato prima, c'è il dizionario dei sinonimi ma chi dovesse scrivere al computer ha anche la possibilità di essere aiutato dai programmi di scrittura ricordiamoci che i nomi propri un tema ad esempio su leopardi non in questi temi particolarmente letterari non infastidisce la ripetizione del nome proprio se io leopardi devo ripeterlo più di una volta ripetiamolo pure senza preoccuparci magari al posto di leopardi a volte posso mettere il poeta ma in questo caso poeta maiuscolo perché non diventa più un nome comune ma un nome proprio che è sinonimo di leopardi oppure a volte al posto di poeta o leopardi possiamo mettere il nostro n maiuscolo ma non facciamoci dei grossi problemi a ripetere il nome proprio più volte qui si insiste su quelle ripetizioni di sinonimi non necessari non conviene ripetere in successione vocaboli con lo stesso significato piuttosto ci aggiungo un attributo a un avverbio mi diceva quest'altro mio ex alunno posso affermare e ritenere che ho agito nel migliore dei modi affermare è vero per carità la sinonimia è anche una figura retorica che ha un suo senso per rafforzare il pensiero ma noi non siamo poeti non siamo letterati quindi più che ripetere due predicati verbali in questo caso ma potrebbe anche essere due nomi due aggettivi due avverbi è meglio proporre un verbo e vicino un avverbio posso affermare serenamente che ho agito nel migliore dei modi e qui poi la regola che secondo me è una delle regole più importanti per curare la forma e che non piaceva come ho già detto più non piaceva ai miei i miei esalunni perché riduceva il loro svolgimento e che è una regola che ritroveremo poi quando affronteremo il pensiero a volte si può migliorare la forma semplicemente cancellando le parole di troppo vedremo quando parleremo del pensiero a volte cancellando anche intere proposizioni che stanno ripetendo con altri vocaboli lo stesso pensiero già riportato nella proposizione precedente proviamo a vedere doveva assentarsi per almeno due ore dalle ore 14 alle ore 16 è meglio scrivere doveva assentarsi per almeno due ore dalle 14 alle 16 abbiamo tolto ore non c'è bisogno assolutamente di pensare ad un sinonimo in questo caso cancellare è la soluzione migliore aggettivi possessivi troppi aggettivi possessivi rivelano una tendenza dialettale sotto l'influenza francese vi trovate di fronte ad un aggettivo possessivo non sapete se tenerlo o sopprimerlo provate a leggere la proposizione con l'aggettivo possessivo e senza l'aggettivo possessivo se la proposizione funziona bene anche senza l'aggettivo possessivo eliminatelo un film che mi era stato consigliato da un mio professore potrei semplicemente dire un film che mi era stato consigliato dal professore qui un complemento di specificazione renderebbe meglio il pensiero un film che mi era stato consigliato dal professore di letta e io ho tolto il mio ma quante volte parlando del papà della mamma dei fratelli delle sorelle degli amici il mio amico la mia mamma insomma il mio papà il mio fratello è meglio dire il mio fratello Marco la mamma soggetti evidenti i soggetti quando sono più che evidenti devono essere sottointesi è il francese la lingua francese che vuole il soggetto anche là dove è evidente oppure la lingua inglese perché sappiamo che le forme nelle varie nella nella coniugazione delle varie persone molto spesso è uguale quindi si deve definire chi è che compie quella determinata azione ma non è così per l'italiano io li nascosi in cortile quella sera mio fratello cominciò a nutrire dei sospetti perché lui credeva io li nascosi in cortile li nascosi in cortile quella sera mio fratello cominciò a nutrire dei sospetti perché credeva non c'è bisogno di metterci un lui sono soggetti evidenti togliamoli come per l'aggettivo possessivo ragioniamo sempre nella stessa maniera se sono nel dubbio provo a leggere la proposizione la frase col soggetto poi la leggo senza soggetto se va bene senza soggetto lo tolgo attenzione a questa regola che non è assoluta perché se no altrimenti capite noi non usiamo più il modo gerundio però il gerundio a volte è molto pesante e sarebbe meglio che venisse in qualche modo sviluppato in una proposizione temporale o una proposizione causale che sono le proposizioni più frequenti espresse molto spesso dal gerundio finalmente partii andando per la strada e calciando il pallone voi capite che qui non siamo in errori gravi non ho scritto a cuore con la Q e il quaderno con la C difficilmente un errore di forma è un errore grave però errori di forma che si aggiungono errori di forma alla fine viene fuori un'esposizione farginosa pesante pasticciata insomma non bella finalmente partii e mentre andavo per strada calciavo il pallone quindi questo calciando il pallone l'ho trasformato in una proposizione coordinata alla principale andando per strada l'ho trasformato in una proposizione subordinata temporale persona quante volte i miei alunni ebbero a utilizzare la parola persona utilizza il meno possibile la parola persona a volte può essere sostituita da un pronome particolarmente il chi oppure in altri casi può essere cancellata del tutto o sostituita da una forma impersonale o da un aggettivo sostantivato si potrebbe aggiungere le persone dicono che c'è chi dice che dicono che si dice che discorso discorso diretto nelle esposizioni di un fatto è meglio evitare il discorso diretto mi domandò sei stato tu a rompere il vaso non è errore scrivere così uno svolgimento ma è meglio mi domandò se fossi stato io a rompere il vaso quindi ho sostituito la proposizione principale interrogativa di diretta con una subordinata interrogativa se fossi stato io a rompere il vaso proposizione principale interrogativa è meglio evitare le interrogative dirette qui abbiamo parlato di un discorso diretto che per caso l'ho presentato in una forma di interrogativa qui invece proprio nello specifico è meglio evitare le interrogative dirette si trasformino in interrogative indirette che dovrebbero avere il verbo espresso ecco qui ci casca l'asino oggi quasi più nessuno rispetto a questa regola cioè porre nel modo congiuntivo il verbo che troviamo nelle subordinate interrogative e nelle subordinate dubitative vedete vedete che dovrebbero avere il verbo espresso nel modo congiuntivo e che a volte potrebbero essere resi in modo ottimale con l'aiuto di un verbo fraseologico facciamo un esempio povero giorgio che cosa farà mai adesso vedete che cosa farà mai adesso c'è una interrogativa diretta sta bene ma indubbiamente non lo vado a segnare con il colore blu può passare anche però sarebbe meglio povero giorgio mi chiedo che cosa possa fare adesso vedete io ho trasformato che cosa farà mai adesso interrogativa diretta in un'interrogativa indiretta e per meglio esprimere questo pensiero ho aggiunto un verbo fraseologico sono quei verbi che molto spesso quando si vuole rendere più semplice la grammatica li si assimila ai verbi servili ma il verbo fraseologico per se stesso è quel verbo che può essere tolto e il significato della proposizione non cambia assolutamente in latino il verbo fraseologico non esiste dove lo possiamo introdurre che cosa possa fare e vedete che ho posto il verbo quel verbo che si trovava all'indicativo l'ho posto al congiuntivo mi chiedo che cosa possa fare adesso elenco lo svolgimento di un tema non è un elenco si evitano dunque le espressioni il primo il secondo il terzo il quarto il quinto addirittura con due punti oppure andando a capo mettendo la lineetta mettendoci uno ta 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 due ta 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 tre non va bene questa può essere l'espressione di una cronaca compone una cronaca su una tua particolare esperienza ma lo svolgimento di un tema non dovrebbe essere sviluppato in questo modo il tuo confidenziale tanto comune in modo particolare tra i ragazzi più giovani si eviti il tuo confidenziale che possiamo anche utilizzare utilizzare una espressione orale ma non sta bene nello scritto si eviti il tuo confidenziale tanto in uso nella lingua parlata bisogna sono sempre frasi prese dai gli svolgimenti dei miei alunni bisogna comportarsi educatamente verso i propri genitori verso chi ti aiuta e ti consiglia questo è un tu confidenziale è meglio bisogna comportarsi educatamente verso i propri genitori verso chi ci aiuta e ci consiglia vocaboli stranieri si evitino i vocaboli stranieri quando ce ne sono di corrispondenti nella lingua italiana ho riportato la macchina nel garage ho riportato una macchina nell'autolimessa congiunzione inizio frase gli scrittori spesso utilizzano la congiunzione all'inizio di una frase se proprio noi la vogliamo utilizzare mettiamola in modo interposto però l'anno scorso in casa scoppiò una lite violenta mettiamola l'anno scorso però in casa scoppiò una lite violenta molto spesso mi è capitato di trovare dei miei alunni che si rifanno al tema quello che noi chiamiamo comunemente il titolo del tema non è bene rivolgersi esplicitamente alla parola dell'enunciato qui riporto di nuovo una frase è un sogno che come sostieni il titolo del tema mi ha sempre accompagnata fin dalla più tenera età no tiriamo via è un sogno che mi ha sempre accompagnata fin dalla più tenera età io non mi devo rivolgere all'enunciato nello svolgimento del tema frasi lunghe e qui come ho detto rivediamo un certo insegnamento che giustamente gli insegnanti degli elementari pongono a discrimine si insegna degli elementari a comporre frasi brevi e chiare ed è giusto così crescendo però si deve maturare di uscire in frasi più complesse che rivelino la padronanza della lingua non vanno bene proposizioni di mezza riga punto un'altra riga punto un altro tre quarti di riga punto non va bene bisogna cercare di creare un linguaggio più complesso dove c'è una principale delle coordinate principali delle subordinate e certamente è più difficile anche per l'uso sintattico in maniera corretta dei tempi per l'uso della punteggiatura certamente però questo è lo svolgimento di un tema non è una serie di pensierini conclusione non utilizziamo mai come termini di uno svolgimento alla fine di questo svolgimento concludendo ora io ora concludo no assolutamente la conclusione e vedremo poi nella struttura dello svolgimento di un tema deve uscire dalla penna in modo semplice equilibrato sereno come un cappello che chiude tutta l'argomentazione prodotta fino a quel momento niente quindi formule concludendo ora concludo io poi ho posto rifacendomi sempre alle lo scritto dei miei tanti pierini che ho avuto lungo gli anni del mio insegnamento certe formule che si trovano negli svolgimenti dei nostri ragazzi ha visto un film sì sì nel linguaggio comune c'è però ha seguito un film si segue un film non si vede ho acceso la televisione mamma mia mi sono sintonizzato su un determinato canale fare decisioni prendere decisioni tirare calci calciare sono attaccato ai miei amici sono affezionato ai miei amici sono seduto nel divano no sono seduto sul divano e poi arrabbiare questo verbo che viene utilizzato con tanta facilità ci sono tanti altri verbi che possono sostituire arrabbiare indispettirsi adirarsi inalberarsi infuriarsi stufarsi scocciarsi si è seccato si è nervosito è andato in colera si è corrucciato si è sdegnato si è inasprito si è infiammato la rabbia è qualche cosa che viene predicata dell'animale della bestia non dell'essere umano in base alla scuola in riferimento alla scuola si fa una lezione si tiene una lezione ascoltare una spiegazione seguire una spiegazione fare compere fare acquisti recompere tipicamente piemontese prendere una nota meritarsi una nota fare un giornalino stilare un giornalino si chiama Tizio di nome Tizio fare una domanda porre una domanda andare una gita partecipare ad una gita fare una lettera comporre scrivere una lettera avere dei sospetti nutrire dei sospetti coprire il ruolo ricoprire il ruolo lavare per terra lavare il pavimento prendere in giro canzonare beffarsi burlarsi fare la psicologo la dottoressa esercitare la professione di psicologo la dottoressa venire all'elementare frequentare l'elementare fare i compiti eseguire i compiti andare bene a scuola riuscire a scuola dare la colpa riversare la colpa su qualcuno prendere il freddo patire il freddo dare i compiti assegnare i compiti prendere le castagne raccogliere le castagne dare i brutti voti valutare negativamente o assegnare voti negativi rispondere malamente rispondere sgarbatamente portare a casa brutti voti presentare votazioni insufficienti fare educazione musicale svolgere educazione musicale comportarsi male comportarsi sgarbatamente prendersi un votaggio meritarsi un votaggio avere dei dolori accusare dei dolori fare dei giri in bicicletta passeggiare in bicicletta mettere qualcosa nell'armadio riporre qualcosa scrivere i compiti svolgere i compiti come ho già visto ascoltare una bella notizia ricevere una bella notizia fare il militare prestare i servizi militari ecco poi evidentemente di queste formule ce ne sono una migliaia io ho posto qui quelle più comuni che i nostri ragazzi utilizzano in modo non corretto ecco io rimando una seconda lezione un po' di questi esercizi esercitazioni semplici di correttezza formale essiccare ricordo che sono esercizi semplici che dovrebbero andare bene per i ragazzi delle medie per i ragazzi delle prime scuole superiori quindi io qui ne ho scritti molti di questi esempi ne ho scritti quanti ne ho scritti 124 e poi ci sono le correzioni che valuteremo in un'altra riflessione sulla forma tutto questo è presente sul mio sito e potete scaricarlo e poi ci sono